L'utilizzo delle sigarette elettroniche usa e getta sta spopolando specie tra i giovanissimi e i minori. Un fenomeno su cui il presidente di Confesercente Assoturismo, Abruzzo Gianluca Grimi, entra a gambatesa definendole mini-bombe ecologiche attualmente legalizzate e chiede alle istituzioni, in primis alla regione Abruzzo, di intervenire per arrestare la diffusione. Questo perché la gran parte dei dispositivi sono rifiuti RAE, quindi andrebbero smaltiti come i computer e i telefonini e invece finiscono forzatamente nei cestini pubblici. Innanzitutto occorre subito chiarire che non stiamo parlando delle normali sigarette elettroniche ma stiamo parlando del fenomeno di quest'anno che sono le sigarette elettroniche usa e getta che vanno a finire nelle mani dei nostri giovani. È un prodotto che ha un bassissimo costo, 5, 6, 7 euro al massimo. Allora io mi chiedo per quale motivo non dovremmo portare in spiaggia un piatto di plastica o di utilizzare un bicchiere di plastica o una forchetta di plastica e consentire invece l'utilizzo sul nostro territorio e sulle nostre spiagge di un prodotto che è un rifiuto elettronico speciale che viene poi lanciato ovunque. È ovvio che è una contraddizione in termini. Tra le varie stiamo parlando di un prodotto veramente pericoloso per i giovani perché ha altissimi contenuti di nicotina per la massima parte dei prodotti che ci sono in giro e che viene utilizzato in totale assenza del controllo da parte dei genitori perché è una cosa che si acquiste e si getta la sera. Ora quello che io chiedo alla nostra regione, che è la regione Abruzzo, di tenere fede alla propria mission, alla propria vocazione di sostenibilità di verde è di farsi capofila alla lotta contro questi prodotti che fanno del male ai giovani, fanno del male al nostro territorio, al nostro ambiente e non possono essere continuati ad utilizzare in questo modo.